Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese dopo gli attentati e i danni di esercizi commerciali a Foggia e a Sansevero afferma occorre un intervento strutturale che possa garantire un'efficace risposta a fenomenologie criminali. Lo Stato fa sentire la sua presenza con risorse aggiuntive. Blue Monday sulle strade pugliesi a perdere la vita un tarantino di 50 anni sulla statale dei Trulli e un 59enne di Francavilla Fontana morto dopo esser finito contro un albero. A Squinzano una donna di 92 anni muore carbonizzata, la sua sciarpa ha preso fuoco mentre stava cucinando. Ore decisive per la corsa al colle, delegati e regionale in partenza sul Quirinale pende la maledizione dell'Adriatico. Finora nessun presidente dal versante destro della cartina, Puglia compresa. Edizione serale della nostra informazione regionale ben ritrovata. Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese dopo gli attentati e i danni degli esercizi commerciali a Foggia ma anche a Sansevero afferma occorre un intervento strutturale che possa garantire un'efficace risposta a fenomenologie criminali. Lo Stato fa sentire la sua presenza con risposte aggiuntive. I foggiani hanno diritto alla legalità, una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che ha riunito le più alte cariche nazionali oltre al ministro Lamorgese, c'era il capo della Polizia Giannini, i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di Finanza, i vertici delle procure di Foggia, di Bari ma anche il procuratore nazionale antimafia Caffiero. Il palazzo della prefettura a Foggia, blindato per un evento di straordinaria importanza, dare una risposta netta e importante alla criminalità foggiana dopo i recenti fatti accaduti in terra d'Auna. Vogliamo dare un messaggio, ha detto il ministro Lamorgese, sull'aumento degli organici, delle forze dell'Ordine, adegueremo il territorio alle tabelle previste, ma non è solo una questione di uomini. In più sarà implementato il servizio di videosorveglianza con alta tecnologia. Il governo è pronto a stanziare 80 milioni di euro. Noi oggi dobbiamo mandare un messaggio, un messaggio chiaro, un messaggio di presenza. Daremo la massima attenzione agli organici di questo territorio, ma ritengo che non sia una questione soltanto di ampliamento di organico. C'è bisogno di un intervento strutturato, di un intervento forte, ricorrendo proprio a quelli che sono i rinforzi del reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato. Un salto di qualità delle mafie di fronte alle quali c'è un'esigenza di contrasto enorme. E questo la direzione distrettuale antimafia di Bari, con la procura di Foggia, con la direzione nazionale, lo sta facendo. I risultati sono quotidiani e questo però evidenzia anche l'esigenza delle mafie di trovare una popolazione ancora pronta a subire le richieste estorsive. Ecco come si spiegano gli stessi attentati degli inizi del gennaio di quest'anno. È una giornata importante, ma in realtà il nostro impegno quotidiano c'è sempre, c'è ogni giorno. Possiamo essere tutti qui, è un'ulteriore testimonianza per stare vicino ai colleghi, per stare vicino alla popolazione, ma è un impegno costante e che a fronte di difficoltà sta dando anche grandi risultati. Dopo il servizio nel nostro direttore Gianni Sebastio, apriamo solo una parentesi legata al Covid con il bollettino epidemiologico. Nella nostra regione, delle ultime 24 ore, i 6.652 nuovi casi su 50.360 test giornalieri. Una persona purtroppo è deceduta. Sono 123.755 le persone attualmente positive nella nostra regione, 615 persone ricoverate in area non critica, 63 in terapia intensiva. E iniziano gli incontri di Palazzo in vista delle elezioni del capo dello Stato. Matteo Salvini dice, spiace che la sinistra imponga veti. Francesco Manigrasso. A una settimana dal primo voto per il Colle mi rifiuto di parlare di giochi politici, ma continuo a incontrare persone in attesa che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti, ma non accettiamo veti da nessuno. Queste le parole di Matteo Salvini che avrebbe incontrato tra i palazzi romani il pentastellato Riccardo Fraccaro. Sto lavorando a 360 gradi, ovviamente come sentendo sulle mie spalle la responsabilità della coalizione di centrodestra dobbiamo scegliere il Presidente della Repubblica per tutti gli italiani, però gli italiani ci hanno dato in Parlamento la maggioranza relativa dei grandi elettori per il Presidente della Repubblica, quindi è chiaro che abbiamo l'onore e l'onere di fare una proposta che sia condivisa. Poi ripeto, io non dico di no a priori a nessuno, mi spiace che Letta invece di ragionare sui temi e sui contenuti dica se c'è questo non mi siedo, se c'è questo non vado. Per il Quirinale bisogna avere anche i numeri per riuscirci, basta con questo atteggiamento, compro baratto e vendo, è dichiarato Matteo Renzi, invece di essere circondato solo da Yes Men qualcuno dica a Berlusconi che non ha i numeri per essere eletto. Trovo invece ragionevoli le parole di Enrico Letta a chi ha detto una cosa seria, proponendo di metterci tutti intorno a un tavolo e fare un patto di legislatura. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni bolla invece la candidatura di Berlusconi come indecente. Cosgarbi ho parlato tempo fa ma siamo preclusi e determinati nomi, spiega invece Pino Cabras di alternativa come quello di Paolo Maddalena. In questo momento noi abbiamo espresso invece il nome di Paolo Maddalena, un nome di una figura indipendente dai partiti che può essere un elemento di raccordo mentre tutti gli altri si incartano sui soliti 15 nomi. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiamato a raccolto i suoi compresi ministri grillini al governo, Luigi Di Maio, Stefano Patronelli, Federico Dinca e Fabiana Dadone, per fare il punto sul Quirinale a pochi giorni dal voto. E sul Quirinale pende la maledizione dell'Adriatico, un po' tormentone, un po' gioco per appassionati. Finora nessun inquilino del colle dal versante destro della cartina, Puglia compresa. Ce ne parla Antonio Bucci. Gioco, tormentone o curiosità per appassionati. Sulle elezioni del Presidente della Repubblica sembra incombere la cosiddetta maledizione dell'Adriatico, ma anche il tabù del Tevere. La mappa è quella disegnata da Caterpillar, programma di Rai Radio 2. Comunque li si chiami. Due fenomeni che finora hanno impedito l'elezione di Presidenti della Repubblica che siano nati nel lato destro della cartina geografica. Gli inquilini del colle più alto di Roma, infatti, sono sempre arrivati dal fronte tirrenico del bel paese. Niente Puglia, insomma. Ma neppure Lombardia o Emilia-Romagna, schema che giocherebbe a sfavore di due big come Silvio Berlusconi o Pierferdinando Casini, è in favore di un bis di Sergio Mattarella. Al Novero si aggiungono anche Lazio e Umbria. La media geografica tra i luoghi di nascita dei dodici presidenti cadrebbe nel mare Tirreno, tra l'isola del Giglio e l'isola di Monte Cristo. Se è per questo, per qualche giorno, il borsino dei candidati ha ipotizzato anche una promozione dalla Batta alla Capitale. Il profilo rincorso, quello di Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale, è eletta dal Parlamento nel 2014, tigius lavorista di fama, sulla quale Giuseppe Conte avrebbe puntato le proprie fisce e anche quelle del Movimento. Non se n'è fatto più nulla, ma nel segreto dell'urna, si sa, può sempre accadere di tutto. Grande successo per l'accensione della Focara. Il primo cittadino di Novoli sottolinea la bontà dell'iniziativa voluta e coordinata dalla sua amministrazione. Matteo Bottazzo. Si è accesa e questo è un buon presagio dopo tutte le difficoltà dei giorni scorsi legate alla sua realizzazione. La Focara 2022 a Novoli ha iniziato ad ardere ed è stato un successo sotto tutti i punti di vista sia in termini di spettacolo ma anche nel rispetto delle regole, così come sottolineato dal sindaco Marco De Luca. Io voglio ricordare innanzitutto la dedica dove il Comitato ha pensato nell'accensione del Falò. Voglio ricordare i camici bianchi, tutti quei medici che da due anni infermieri, ossu, sono in prima linea contro il Covid. Quindi voglio ringraziare il 118 che tanto ha fatto, sta facendo e farà sicuramente insieme al pronto soccorso di Lecce. Sono dei medici, i cosiddetti medici, in prima linea. E poi voglio spendere una parola perché se abbiamo potuto accendere la nostra grande pira devo ringraziare assolutamente Sua Eccellenza il Prefetto che dal primo momento è stata sempre vicina a noi come comunità insieme a tutte le forze dell'ordine dalla Questura di Lecce all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Soddisfatta anche l'assessore Sabrina Spericato che ha sottolineato la volontà dell'amministrazione di allestire l'evento superando le mille difficoltà di questo particolare momento storico. Il decreto in auge non comportava limitazioni particolari salvo le mascherine e l'eventuale ingresso con Green Pass. Di fatto dal 23 dicembre sono stati vietati gli eventi all'aperto e questo ha creato molte difficoltà nella riorganizzazione di tutto l'evento. Ci dispiace tantissimo per non aver potuto consentire a tutti i novolesi e i pellegrini di Sant'Antonio di essere presenti e questo tengo a sottolinearlo perché non è dipeso assolutamente dalla nostra volontà. E adesso la cronaca tragedia sulla strada statale 172 dei Trulli nel pomeriggio di oggi poco prima delle 15 un uomo è stato investito da un'auto una Citroen C3 a pochi chilometri dal centro abitato di Taranto nei pressi dello svincolo per il seminario. La vittima è un tarantino residente al quartiere Paolo VI aveva 50 anni e sarebbe morto sul colpo il conducente dell'auto si è fermato ed ha chiamato subito i soccorsi però quando sono giunti i sanitari del 118 purtroppo non c'era nulla da fare e altro incidente mortale è avvenuto a Francavilla Fontana dove a causa di un tamponamento un uomo di 59 anni è finito contro un albero l'impatto è avvenuto sulla provinciale che da Carosino porta alla città degli imperiali e intanto una donna di 92 anni è morta nella sua abitazione a Squinsano nelle cese per le gravi uscioni riportate dopo che i suoi vestiti hanno preso fuoco mentre stava cucinando l'anziana era da sola in casa e quando i vicini hanno dato l'allarme i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare purtroppo per lei era troppo tardi sul posto sono intervenuti anche i carabinieri era questa la nostra ultima notizia prima di chiudere però vi ricordo che oggi è lunedì quindi è il giorno del punto la nostra trasmissione condotta egregiamente da Manila Gorio reduce tra l'altro da una fantastica ospitata a Rai 3 però è tornata a casa adesso Manila buonasera buonasera a te sì grazie Claudia è stata un'intervista davvero importante a riconoscimento del lavoro che svolgiamo tutti insieme in squadra appunto con il punto che questa sera come hai appena detto alle ore 21 sarò lì con i riflettori accesi con tantissimi ospiti sono onorata di avere il vicepresidente del Movimento 5 Stelle l'uomo di Conte con noi ci sarà proprio il senatore Mario Turco e poi arriveranno direttamente da Roma nei nostri studi in esclusiva tantissimi parlamentari col quale faremo il punto ovviamente sul toto del Quirinale non mancheranno tante polemiche su tutto quello che sta succedendo nella regione Puglia e avrò con me tantissimi consiglieri regionali tanti motivi dunque per seguire il punto di Manila Gorio grazie alla mia collega io mi fermo qui per l'informazione regionale e tra poco per quella provinciale grazie per la visione